Ben ritrovati con l'appuntamento dell'editoriale Telemaig programma 97, telemaigchioccioalibero.it per le vostre osservazioni. Qualsiasi cosa vogliate comunicarci, telemaigchioccioalibero.it o la cassetta postale all'esterno della sede in via Maria Scalera 66. Parliamo della crisi comunale di Acquaviva delle Fonti. Vi ricordate che vi abbiamo fatto ascoltare qualche giorno fa le note di Fiorella Mannoia? Come si cambia per non morire, che ben riportava artisticamente, musicalmente parlando, quello che era stato detto nei due comizi elettorali rispettivamente del sindaco Carlucci il 7 novembre e del coordinatore cittadino del PD di Acquaviva delle Fonti, Giovanni Nettis, l'8 novembre. Il giorno successivo, il sabato il sindaco, la domenica il Partito Democratico. Ben si poteva abbinare alla seduta consigliare del 27 novembre che stiamo trasmettendo. Vi ricordo oggi l'ultima parte anziché alle ore 18 alle 17.45 e poi andrà in onda, quindi da domani, la seduta del 30 novembre. Ma il 30 novembre abbiamo cambiato musica, abbiamo cambiato repertorio. Sì, non abbiamo più ascoltato le note di Fiorella Mannoia. Come si cambia per non morire, non l'abbiamo più ascoltato. Questo si deduce dalla nostra interpretazione artistica, perché noi non siamo politici, noi siamo degli artisti, pensiamo di non essere lupachiotti perché non facciamo parte dei lupi mannari, ecco siamo degli artisti e abbiamo interpretato artisticamente il Consiglio Comunale del 30 novembre. Quindi facciamo qualche metafora, facciamo in maniera ironica qualche interpretazione. E' intuibile quindi da parte del PD che non lo hai mica capito, forse ben si abbina. Ecco un altro tipo di musica, ma ascoltiamolo. Ti voglio bene, non l'hai mica capito. Ti voglio bene, lascia stare a vestito. Ti voglio bene, non cambiare discorso, dai non scherzare. Invece il primo cittadino ha tutto un suo repertorio, non solo quando va su Facebook e fa un suo post, così come dice Carmela Capozzo, ma ne parleremo in altro momento, ma sembrerebbe che risponda al PD in aula con altro genere musicale, più tosto, più vigoroso, più istituzionale. Ascoltiamolo. Io non posso restare, seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di braccia, e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro ricominciamo. E allora noi ci chiediamo, se avete generi musicali diversi, perché insomma non mi sembrano siano lo stesso genere, come si farà a danzare insieme? Insomma, in una scuola di ballo non si può danzare con gli stessi passi se si ascoltano contemporaneamente due ritmi diversi. Io non sono un ballerino, non sono un lupacchiotto, ma do questa interpretazione artistica. Mi sarà consentito in questa acquaviva bellissima senza che si sfoghino gli addetti a Facebook? Penso di sì. Noi ci saremmo augurati invece dei provvedimenti risolutivi, delle risposte concrete ai disservizi. Un bel concerto... Chiedo scusa. E' vero che il lupo perde il pelo e non il vizio, ma io non sono... Ho dimenticato di rimettere il... Chiedo scusa. Che dobbiamo fare? Pronto? No, scusami ciccio. Sì? E no, sono in trasmissione. Sì, sì. La buca? Ah, ti è piaciuta l'editoriale della banda del buco? Ah, no, non è quello che mi vuoi dire. Sì, sono in trasmissione, dobbiamo chiudere. Ah, invia? Ah, ne parliamo dopo. Sì, 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 proprio stamattina ho fatto. Sì, 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 l'ho rifotografata. Sì, sì, vabbè. Scusami, devo chiudere. Ciao, ciao, ciao. Chiedo scusa. Scusatemi. E' una buca. Ne parliamo più in avanti. Allora, abbiamo intervistato due lupacchiotti, perché nel momento in cui si fa riferimento a dei lupi mannari siamo andati alla ricerca di due lupacchiotti e quindi vogliamo ascoltare qualche breve ululato di questi, scusatemi, volevo dire qualche breve dichiarazione di questi due rappresentanti della comunità acquavivese che si sono prestati gentilmente a rilasciare delle interviste. Parliamo di Roberto Tisci e ascoltiamo quello che ha detto in sintesi un brevissimo passaggio dell'intervista che andrà in onda oggi a partire dalle 14.25 quindi successivamente a questo editoriale e poi alle 19.30 prima alle 16.30 quindi 19.30 alle 22 domani alle ore 13 ma ascoltiamo un brevissimo passaggio. Da politico le dico che i tempi devono essere non ristretti ristrettissimi cioè le ho già detto ad oras oggi che giorno è oggi è martedì credo che entro giovedì mattina o lui ci fa sapere parlo del sindaco di che di come intende risolvere questa crisi dandoli ancora una volta il partito democratico è il partito che le sta dando una seconda possibilità perché in altri tempi un sindaco era a casa o un sindaco responsabile monco di una maggioranza relativa non può governare con i 7 sedicesimi i 7 i 7 i 7 e 17 del voto qui ci sono 10 voti se di opposizione e 4 astenuti di che sono chiamati fuori dalla maggioranza che non la sostengono quindi un sindaco intelligente un sindaco che non è attaccato alla poltrona e sembrerebbe che questo nostro sindaco così come gli assessori in carica non siano attaccati alla poltrona ma sono ben pronti a rinunciare bisogna mettere un punto per ripartire ecco quindi Roberto Tisci come tutti i cittadini di Acquaviva si danno delle scadenze e vorrebbero capire quale sarà la risposta del sindaco lui da il termine di giovedì non sappiamo se è perché ha dei contatti che gli consentono di dare insomma questa data come termine affinché il sindaco possa finalmente sciogliere le riserve e rispondere alle richieste del partito democratico e abbiamo anche ascoltato Angelo Maurizio la sua intervista andrà in onda domani vediamo invece che cosa dice l'avvocato Maurizio anche nell'ipotesi ritorno a dire per tranquillizzare tutti coloro che pensano che noi siamo dei lupi e che stiamo aspettando per sbranare chissà cosa voglio ancora una volta chiarire subito che per quando riguarda il gruppo dei moderati di Acquaviva delle Fondi non sono interessati a nessun banchetto perché noi non aspettiamo che il sindaco anziri la giunta per entrare in una trattativa per eventualmente ricostituire una giunta perché noi lo dichiaro qua espressamente non faremo mai parte di alcun tavolo di alcun banchetto per dividere le poltrone ecco l'avvocato Maurizio dice che non è interessato alle poltrone spero che non non giunga un'altra telefonata dice l'avvocato Maurizio non siamo interessati alle poltrone e allora il primo fa una dichiarazione forte il secondo un'altra dichiarazione che riguarda le poltrone ma tanto altro hanno aggiunto questi nostri intervistati e prendo spunto da Ciccio che mi ha chiamato poco fa per ricordare ai nostri rappresentanti istituzionali che problemi rimangono quindi se non si cambia nulla si muore ed è trascorso un mese da questo brano musicale continuiamo questo confronto non l'hai mica capito e ricominciamo e giungiamo ai problemi di Acquaviva perché quelli rimangono come quella buca in via Pio X adesso diamo anche l'indirizzo a pochi passi dallo studio medico del dottor Abbatecola che è stato nostro gradito ospite insieme al consigliere comunale Pasquale Cotrufo e al loro coordinatore cittadino quindi segretario e quindi capogruppo consigliare Gianni Nettis in cui proprio durante quell'intervista facevo notare che c'era una grossa buca in via Pio X che creava grossi disagi perché nel momento in cui l'auto transita deve decidere se salire sul marciapiede o sprofondare con il proprio pneumatico all'interno di quella buca e che cosa può decidere di sprofondare con il proprio pneumatico dentro quella buca più o meno a bassa velocità naturalmente ma se uno non se ne accorge non conosce quella buca e qualche danno lo riceve la sua autovettura un mese da quell'intervista il 2 novembre l'abbiamo realizzata quella buca è ancora lì lo sapete che cosa potrebbero rispondere non è vero che nulla è cambiato perché la buca non è la stessa è diventata più larga e profonda quindi c'è un cambiamento ma il cambiamento deve essere in positivo non in negativo rispondono i cittadini gli stessi cittadini che si chiedono dove è finita Catarina la nostra amica caprettina che ci dava una mano a mangiare quell'erbaccia sui marciapiedi della nostra bella acquaviva delle fonti perché forse solamente col suo aiuto elimineremo voi pensate nelle strade periferiche no si tratta di strada centrale questa erbaccia dai marciapiedi un saluto a voi tutti grazie di aver ascoltato questo editoriale e vedremo se si ricomincerà se non lo hanno mica capito se ci sono o ci fanno insomma sono loro a scegliere quale parte vogliono rappresentare noi facciamo la nostra ognuno deve svolgere il suo ruolo e anche mi dovete scusare ho dimenticato pronto? si? hai visto il consiglio comunale? si sei soddisfatto? ti è piaciuto eh? si 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 ti è piaciuto le dichiarazioni di netti ti sono piaciute si 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 quello del 30 va in onda domani si la luce è accesa ma perché non chiamate i vigili urbani? si? non volete disturbare i vigili urbani? vabbè disturbate me non ho capito ah è un vostro diritto l'informazione deve essere data ho capito vabbè ma non è un vostro diritto anche usufruire di un servizio pubblico quello la polizia municipale o recarvi presso l'ufficio tecnico e dire ma come mai da giorni 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 se non mesi non sappiamo da quanto quella luce è accesa in pieno centro urbano avete paura avete timore di che cosa avete timore? non volete inimicarvi i dipendenti comunali i vigili urbani che c'è di loro fanno il loro dovere perché ve li dovete inimicare? ah potrebbe sembrare un discorso personale ma che c'entra il discorso personale adesso? che c'entra il consiglio comunale? ah se è personale quello potrebbe diventare personale anche il fatto della luce tutto diventa personale qui in questa città ah l'è successo quando ha chiamato per un pascarrabile ah e perché? ah c'era una macchina avanti al suo pascarrabile lei ha chiamato e diventa un discorso personale tra chi aveva occupato il pascarrabile lei ah la coppa era sua che aveva chiamato i vigi e chi gliel'ha detto questa cosa? sa se la sono presa con lei ma vi che i vigili? no quello che ha parcheggiato la macchina ah e perché? ah perché ha ricevuto la contravenzione vabbè lei che cosa? faccio una se scriva a prefetto che cosa devo dire ma a lei questo numero telefono chi gliel'ha dato? scusi ah ah addirittura il consigliere comunale cioè il consigliere comunale ha dato a lei il mio numero telefono per dire farlo segnalare a telemaic chissà vanno a chiudere vanno a spegnere la luce ma è di maggioranza o di minoranza? no di minoranza questo consigliere ah ah fantastico fantastico bellissimo bellissimo beh chiedo scusa devo chiudere arrivederci salve beh chiedo scusa per questa interruzione a fine si si riferiva a una cassa armonica di accogliere le fonti dice ma è mai possibile che sono due giorni che quella luce e quel faro sono ancora accesi in una cassa armonica siccome aveva visto già un altro articolo sullo spreco energetico pubblicato sull'eco di Acquaviva eri ah ma scusatemi pronto? pronto? dicendo storico che dobbiamo fare? il sindaco non le piace? e lei come non è ancora andato in onda con la parte del consiglio comunale ah le hanno riferito ho capito lei non è d'accordo all'area pedonale nel centro storico perché? perché ah è anziano e quindi ha bisogno di arrivare con la macchina ho capito si vabbè ma non sappiamo se potrebbe essere rilasciare dei pass i disabili potranno transitare ma lei perché chiama a me chiedo scusa si ah che le ha dati il nome telefonico consigliere comunale anche a lei ma vabbè ma no no anche a lei nel senso che ha chiamato un altro le piace con dei lupi ah ho capito non ha visto la prossima va bene comunque faccio una cortesia si rivolga no ai vigili urbani veda lei a chi si deve rivolgere non è d'accordo lei vorrebbe partecipare prima che si decida di chiudere la piazza e non dopo ah non le piace quel passaggio che ha fatto il sindaco ha detto io ho già deciso che la piazza deve essere chiusa quindi si fa così poi il resto possiamo parlarne ma la piazza ah ho capito le sembra un'imposizione forte li ricordano vecchi adagi si 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 ah lei pensa che si ritorni ah si 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 va bene ma che significa lei evidentemente è nel programma elettorale del sindaco è stato scritto nel programma elettorale del sindaco la coalizione di governo avrà scritto evidentemente nel programma elettorale che piazza dei marti chiedo scusa agli spettatori che piazza è una notizia che riguarda anche voi che piazza dei marti 1799 sarebbe stata chiusa al traffico non si ricorda questo passaggio nel programma elettorale ah io sono ignorante e perché sono ignorante ah perché io dovrei conoscere a memoria cioè io dovrei conoscere a memoria il programma elettorale del sindaco ah perché sono giornalista è vero devo fare ha ragione quindi la coppa è mia adesso la coppa è nostra è di telemaica adesso ah ho capito dobbiamo fare maggiore attenzione ai problemi locali ho capito sì ma lei al consigliere comunale non glielo ha detto questo scusi lei ha votato ah non l'ha votato quel consigliere comunale è il primo che ha trovato ma è della maggioranza o della minoranza ah questa è della minoranza no perché la precedente invece aveva incontrato del consigliere ah e le ha detto chiamatele telemaica così se ne parla forse risolve il problema ah perché le liste civiche non partecipano alle trasmissioni però seguono i programmi telemaica ah ah li ha visti lei che leggono anche l'eco di acquaviva fantastico ah mi fa piacere e vabbè vuol dire che siamo utili anche a loro ecco grazie per i complimenti grazie cercheremo di parlarne anche di questo fatto grazie grazie speriamo che chiedo scusa metto il silenziamento un attimino silenziamento ecco e allora si riferiscono a delle dichiarazioni e chiudiamo veramente che ha fatto il sindaco durante il consiglio la seduta consigliare del 30 novembre a proposito di una raccomandazione che veniva posta dalla minoranza che riguardavano i lavori riguardavano la crisi che stavano sopportando i commercianti di quell'area e il sindaco rispondeva che avrebbero verificato la possibilità di alcune soluzioni fiscali per agevolare i commercianti ecco veramente non abbiamo capito bene di che cosa si trattasse ma forse perché noi abbiamo capito male o perché si sentiva male in aula ma il concetto espresso dal sindaco non era molto chiaro quindi ci auguriamo che lo faccia con uno scritto in maniera tale che sarà molto più chiaro anche perché carta canta dice Tonini Santamaria quindi carta rimane e le canzoni poi che si dicono vengono interpretate e quindi quella zona deve essere inibita al traffico veicolare quindi dovrebbe essere auto e motociclette penso forse solo le biciclette o nemmeno le biciclette potranno transitare e ha detto il sindaco questo è un punto fermo poi possiamo discutere di tante altre cose ma lì abbiamo già deciso e quindi il nostro telespettatore invece dice che cosa avete deciso le decisioni devono essere prese con la popolazione con i residenti dell'area e gli altri che stanno all'esterno è troppo comodo far diventare un salotto eventualmente per i cari amici con cittadini che vengono da altre zone a farsi lì la passeggiata e sacrificare poi le nostre esigenze anche dei vecchietti e dei disabili che già vivono lì e che fino a ieri non avevano questa inibizione o a quelle attività commerciali che hanno iniziato l'attività senza poter pensare che fra 10 anni che dopo 10 anni dopo 20 anni avrebbero chiuso al traffico l'area e quindi portando degli effetti negativi alla loro attività ma questo è un problema che riguarda diciamo il modo di rapportarsi da parte di una pubblica amministrazione ai propri cittadini chiudiamo quindi così questo nostro editoriale alla prossima edizione grazie come si cambia per non morire come si cambia ti voglio bene tu l'hai mica capito ti voglio bene lascia stare il vestito ti voglio bene per cambiare discorso dai non scherzare io non posso restare seduto in disparte né arte né parte non sono capace di stare a guardare questi occhi di braccia e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro ricominciamo come si cambia 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 Grazie.